Ciao a tutti, eccomi qua per farvi vedere i premi della seconda classificata, della terza classificata, dirvi chi è la seconda classificata e spiegarvi come le prime due devono scegliere la terza classificata. I premi sono secondo me tutti molto belli, tutti acquistati da me, allora cominciamo con la seconda classificata, allora tutto il tuo premio si compone da, cominciamo per quel che riguarda Essence, prima di tutto abbiamo la collezione I Love Berlin, questo bellissimo cuffanetto è 01 Style Victim, è composto da nove colori, uno più bello dell'altro, spero si veda, con un bellissimo specchio, poi collezione Boom Boom, abbiamo gli eyeliner in crema, questi qua, poi la nuova Essence Sun Club, la nuova palette di otto colori, la 02 Long Beach, anche qui sono dei fantastici colori, con l'applicatore, questa è la palette, vado un po' veloce, quindi collezione Fairy Tail, sempre Essence, lip gloss violetto 01 e due ombretti, il 03 e il 01, che sono questi due, poi i nuovi prodotti della collezione fissa, abbiamo per te i due pennelli, di eyeliner e il smokey eye brush, come pure l'eyeliner in gel viola, sempre nuovo prodotto, la mascara multi action, smokey eye, poi passiamo alla collezione sempre Essence, però la collezione è normale, questa palette da quattro colori, molto primaverile ed estiva, è la 08, passiamo invece ora ai prodotti M&I della Maybelline, abbiamo, questo non te lo apro perché è chiuso, comunque è un blush, un rosino, sempre sulle stesse tonalità, ho trovato questo lip gloss e quest'altro lip gloss pescato, in più questo fantastico smalto, anche questo è pesca, però ha dei riflessi oro, meraviglioso, rimanendo sugli smalti, questo smalto della Kiko, il 277, e poi un lip gloss della Catrice, questo, color carne, ancora tre lip gloss, si chiamano fiori di baci, sono bellissimi, in tre tonalità e sono a forma di rosa. Ora passiamo alla cura del corpo, della Yves Rocher, un doccia alla mora selvatica, poi della DAV, è un prodotto per la protezione contro il sole per i capelli, e poi questo della Daniel Juvians, che è una marca francese, dalla quale io acquisto determinati prodotti, questo crema doccia, Aquamon di Madagascar, sono tutti prodotti grandi, e poi abbiamo uno, due, tre, quattro maschere per il viso, anzi sono otto, perché ogni confezione dà due maschere. Allora, questo è per una maschera per la pulizia del mar morto, sale del mar morto, questa è una maschera alla vitamina C, una maschera peeling, un'altra maschera sfogliante all'avocado e alle noci, e infine una maschera rivitalizzante al cocomero e alla mela. Ecco, questi sono i prodotti per la seconda classificata, e adesso vi dico chi è la seconda classificata, vi lascio il video e le foto della fortunata vincitrice, ho fatto un po' di fatica a sceglierla, per questo secondo posto c'erano parecchie ragazze che se la giocavano, comunque la mia scelta è questa e spero che l'accettiate. Grazie. Grazie. Grazie.